Ciao a tutti ragazzi bentornati su Facciamo Cinema, oggi recensione della Casa di Carta parte 5 volume 1, è lo stesso giochetto un po' che hanno utilizzato già con Kill Bill a suo tempo, dividendolo in due parti e quindi dovremo aspettare ancora tre mesi prima di vedere questo gran finale come si prospetta. È una serie che ho seguito con attenzione e con passione, che mi ha anche saputo divertire e intrattenere, però fondamentalmente, come tutte le altre stagioni, ha un grande problema di fondo, che è troppo ripetitiva. Sì, perché le dinamiche sono sempre le stesse, si arriva sempre al momento topico della situazione e poi puntualmente non accade niente, è un criceto praticamente che gira sempre di continuo sulla ruota e alla fine nessuno prende poi delle decisioni che veramente mandano avanti la trama. È una linea temporale che però viene percorsa piano piano, proprio come se si camminasse sulle sabbie mobili, e in queste sabbie mobili piano piano si sta inabissando, quindi spero che il 3 di dicembre avremo finalmente il vero finale di questa storia che ormai si segue sempre più con fatica, perché devo dire che è un po' come il Terminator. I primi due capitoli si completano alla perfezione, così come sono state la prima e la seconda stagione, che infatti a me sono piaciute tantissimo, però poi la terza, già con questa nuova idea di una nuova rapina assolutamente insensata, già cominciava tutto a sembrare molto illogico e anche molto lento, sapeva già di una cosa già vista, perché una rapina insomma c'era già stata, questa hanno trovato un escamotage ridicolo veramente per mandarla avanti, la quarta stagione veramente è inguardabile, è tutto uno scontro, una battaglia che ruota intorno alla banda con Gandia, che poi prevedibilmente porterà alla morte di Nairobi, e in questa quinta serie, in questa quinta stagione, è stato usato un po' lo stesso modus operandi, insomma, già dal terzo episodio si evince un certo particolare, non voglio fare spoiler, però chi l'ha visto sa, e poi dopo, non sarà nel quarto, ma nel quinto, quello che doveva succedere, che insomma era prevedibile, perché vengono un po' narrate le storie, le vicende passate di un certo personaggio con vari flashback, e insomma quello che doveva succedere, che un po' si sapeva, succederà sul finire proprio di questo primo tempo. È una serie che comunque ho saputo divertirmi e intrattenermi per quello che vale, io comunque vi invito a guardarla, soprattutto le prime due stagioni, perché poi sono quelle che veramente meritano di più, un po' come ho già detto, come Terminator, e niente, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, da Facciamocine è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao!